Nella mattinata del 13 gennaio, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno dato esecuzione all'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro nei confronti di un ex impiegato pubblico con mansioni amministrative, ora in pensione, dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, condannato in via definitiva a due anni di reclusione per truffa aggravata e falsa attestazione della presenza in servizio in relazione a numerosi e reiterati episodi di assenteismo commessi nel 2016 e 2017. L'interessato era stato coinvolto nell'operazione cartellino rosso del nucleo di polizia economico-finanziaria Gruppo Tutela Spesa Pubblica di Catanzaro, che aveva consentito di constatare un diffuso fenomeno di illecito assenteismo a 57 dipendenti delle strutture amministrative dell'Asp di Catanzaro e dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio, nei confronti dei quali è in corso il giudizio.